eccoci a una nuova edizione di Reas e come sempre come ogni Reas Spencer presenta le proprie novità quest'anno arriviamo a completare la nostra gamma di prodotti e proprio qui accanto a me abbiamo le sedie che quest'anno vengono completate dalla sedia scendiscale per eccellenza la nostra 4Bell a la sedia motorizzata che è una nuova arrivata in casa Spencer ma anche la poltrona motorizzabile tutta una serie di dispositivi che vanno ad aiutare incontro a quelle che sono le esigenze e del mercato ma ovviamente degli operatori per la salvaguardia delle loro schiene della loro incolumità durante il servizio. Quest'anno portiamo a Reas il nuovo restyling della nostra Kinetics già presentata nell'edizione precedente di Reas ma soprattutto quest'anno portiamo una nuova barella che abbiamo chiamato Agile perché effettivamente porta agilità in un mondo dove di agilità ce n'era poca semplicità e flessibilità una barella molto semplice multilivello con la possibilità di essere azionata da un solo operatore ovviamente nella massima sicurezza e soprattutto in in garanzia di quelle che sono le normative e l'assistenza verso il paziente. Non per ultima e non meno importante è il successo di avere con noi a bordo in questa edizione di Reas un'altra grande azienda PACT, l'azienda degli zaini per eccellenza che quest'anno esponiamo con grande orgoglio sul nostro stand. Non soltanto zaini perché PACT ha una serie di prodotti dedicati al mondo del soccorso tecnico che stiamo mostrando. Primo fra tutti la barella RTS, una barella perricellabile, la barella rollabile per il soccorso industriale e non soltanto ma anche e soprattutto tutta la parte dedicata ai dispositivi a depressione, quindi materassi e stecoband. Ci tengo a sottolineare che quest'anno abbiamo dedicato all'interno del nostro stand uno spazio esclusivamente per l'assistenza tecnica. Siamo l'unica azienda del settore ad avere un centro assistenza dedicato per ciascuna regione d'Italia, ne siamo orgogliosi e vogliamo dimostrarlo. Ultimo, last but not least, la parte dedicata agli impianti di ossigeno perché Spencer da sempre vuol fare la sua parte nel mondo dell'impiantistica dell'ossigeno. Siamo fornitori di tanti allestitori e spesso e volentieri è un dispositivo che passa in secondo piano ma che invece dà risalto a una grande qualità perché quegli impianti sono frutto di un grande studio tecnico che c'è alle spalle di tutto il nostro team, il team Spencer che come sempre porta grandi novità a questo mondo, al mercato dell'emergenza mondiale.